Bazarov, non ricambiato dall'Odincova, si mette in viaggio verso la tenuta di famiglia insieme ad Arcadi. L'ambiente familiare e la calorosa accoglienza dei genitori, però, non alleghiano il suo dolore. Al contrario, fanno crescere lui un senso di noia e rancore, che si ripercuote anche sul rapporto con l'amico. I due giovani, infatti, durante una discussione, arrivano quasi alle mani. Dopo pochi giorni, Evgeni e Arcadi ripartono, questa volta diretti a casa Kirsanov, ma, lungo la strada, decidono di compiere quella che loro stessi definiscono una sciocchezza. Si fermano così dall'Odincova, che, meravigliata da quel ritorno improvviso, li accoglie con una certa freddezza. Katia, la sorella, non si sente bene e non si fa vedere, con grande delusione di Arcadi. Trascorse poche ore di chiacchiere di circostanza, riprendono il viaggio verso casa. Da quel momento, nessuno dei due nominerà più Anna Sergievna. Arrivati a Marino, Arcadi non trova pace e sente che qualcosa lo chiama da lontano. Decide allora di recarsi nuovamente a casa delle due donne, spinto dal desiderio di rivedere Katia, con la quale ha avvertito fin dal primo momento una grande affinità. Grazie. 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 Grazie.